buona giornata ben ritrovati cari telespettatori di fano tv oggi è martedì 5 gennaio 2021 questo è il canale 17 siamo qui per sfogliare i giornali dare un'occhiata alle pagine che abbiamo selezionato e che tra poco commenteremo insieme a voi anche se poi insomma lo commenteremo così differita allora vediamo subito il santo di oggi poi le previsioni del tempo oggi san giovanni neumann o newman il sole sorgerà alle 7 3 quarti e tramonterà le 16 47 adesso il tempo uno sguardo come sempre al sito della protezione civile delle marche che per oggi prevede un cielo nuvoloso con maggiore densamenti nelle zone interne probabili schiarite in serata specie nel settore culinario e costiero però ci sono anche nella tarda mattinata di oggi precipitazioni deboli più abbondanti invece in montagna il limite delle nevicate oggi sarà intorno agli 800 millimetri per domani invece mercoledì giorno di festa giorno dell'epifania abbiamo ancora la neve in montagna con precipitazioni anche caratteri di rovescio nevose al di sopra dei 700 800 metri non si escludono brevi ed isolati fenomeni quindi neve anche nel resto del territorio quindi domani sarà una giornata tutta da da vivere da vedere giovedì 7 7 gennaio allora il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo il tempo sarà stabile anche nella giornata di venerdì in attesa di un peggioramento del tempo che sarà possibile nel fine settimana allora abbiamo visto le notizie ieri nel telegiornale occhio la notizia delle 20 e 30 in primis quella che la regione marca deciso così come altre regioni non tutte ovviamente qualche regione del nord di posticipare l'apertura delle scuole di far tornare in presenza gli studenti delle superiori si era parlato non più del 75 si era arrivato al 50 per cento adesso invece visto l'andamento dei contagio per non rischiare di rimanere in zona rossa per molte settimane ancora le marche la giunta acquarolli ha deciso di posticipare l'apertura in presenza quindi fino alla fine di gennaio gli studenti delle superiori dovranno continuare le lezioni a distanza quindi su internet di questo ma anche di altro si parla questa materia sui giornali cominciamo a vedere allora la prima pagina del resto del calino di pesero come vedete la foto notizia è dedicata proprio alla scuola rimandati a febbraio il titolo troppi rischi di contagio la regione chiude le superiori fino al 31 di gennaio vaccini tutti in fila con il numerino a marche nord si viaggia al ritmo di una iniezione ogni dieci minuti ma circa 50 sanitari per ora dicono no al vaccino eravamo a 20 sono aumentati dunque di 30 sono 50 le persone gli operatori infermieri che non vogliono vaccinarsi il negazionista lo abbiamo ne abbiamo parlato ieri sempre attraverso il giornale il resto del calino questo fanese di 50 anni circa daniele egidi che è finito su tutti i siti d'italia e che era uno di quelli come ce ne sono tanti negazionisti e adesso è pentito perché lui il covid se l'è beccato e adesso è diventato un caso nazionale lui dice dal suo letto di ospedale non fate come me maxi vincita la dea bendata a assoria un quartiere di pesero mister milione non ha però ancora un nome tampone di massa ora tocca a fano e le zone limitrofe si parte dalla giornata di venerdì e poi la storia di una quindicenne ribelle prima segregata e poi in fuga in tribunale ci finisce la mamma ratti a pesero il negozio la boutique insomma di lusso ratti compie 75 anni lancio nelle commerce nella vendita su internet il compleanno della storica boutique che fattura più di 60 milioni all'anno una cosa incredibile l'acquirente un collezionista francese valentino vende lo yacht e ne compra un altro e adesso andiamo a vedere il corriere adriatico il corriere adriatico l'edizione di pesero apre con le scuole superiori il dietro front della regione scuole superiori a casa salgono i contagio ordinanza di acquaroli il 7 non si torna in classe didattica distanza fino al 31 gennaio il piano del trasporto presentato al prefetto al campus potenziate le fermate contro gli assembramenti cantiere rossini siamo a pesero lavori mai fermati nautica la ripartenza viene dal mare e poi a pesero in giro fino a tarda sera ragazzini multati e una mamma finisce nei guai perché si era arrabbiata si era scagliata contro la contro chi aveva multato i propri figli soccorso ciclista invece caduto nel dirupo del san bartolo nelle pagine di cronaca di pesero e poi marito violento esce dal carcere incubo in famiglia a fano gli sforamenti sono 36 salvati dai dati mancanti benini analizza i numeri avverte sullo smog per ora le pm 10 fanno più vittime del covid spostamenti vietati siamo sul nuovo dpcm vietati fino al 15 di gennaio ma consentite le micro visite e allora marche contro il governo superiore ancora in dad l'acronimo di didattica a distanza almeno fino al 31 di gennaio oggi il presidente acquaroli firma l'ordinanza si allineano veneto e friuli l'assessore latini dice il nostro obiettivo è tornare in classe ma in sicurezza e c'è anche però questa questa decisione che non piace al a qualche rappresentante del governo in particolare al ministro degli affari regionali francesco boccia che ha detto ha già lanciato un monito ai governatori ribelli quindi in questo caso a quelli delle marche e come abbiamo visto del veneto del friuli e a loro manda dire chi sposta in avanti l'apertura delle scuole allora deve spostare anche la riapertura delle altre attività se si fa slittare il ritorno in classe a fine mese ma si mantiene l'apertura degli impianti sciistici al 18 di gennaio c'è qualcosa che non va e poi si parla in questo articolo di martina marinangeli anche della della fuga in avanti del vice presidente mirco carloni che abbiamo intervistato ieri nel nostro telegiornale fuga in avanti perché carloni aveva scritto su facebook ieri mattina un post che però ha scatenato un ginepraio di commenti e polemiche soprattutto di quei genitori preoccupati che chiedevano chiarezza su quali ordini e gradi fossero coinvolti quindi superiori oppure le medie perché si parlava di scuola in generale una fuga in avanti del numero due di palazzo raffaello che come dicevo non è stata particolarmente gradita e apprezzata all'interno della giunta non fosse altro per il discorso del cosiddetto galateo istituzionale per quanto riguarda invece a proposito delle contestazioni vi segnalo questa mattina il comitato priorità alla scuola che ha organizzato dalle 11 alle 13 sulla scalinata di palazzo raffaello un sit in statico dove protesteranno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla riapertura appunto delle scuole il 7 di gennaio il titolo del carlino nelle marche il virus picchiaduro le superiori in aula febbraio l'assessore latini contro il governo assurdo fare modifiche a pochi giorni dalla riapertura mentre sulla pagina di pesero paura dei contagi la scuola deve attendere fino al 31 gennaio lezioni solo a distanza i ragazzi torneranno in presenza al 50 per cento da lunedì primo febbraio oggi acquaroli firma l'ordinanza ma scattano subito le reazioni il preside però riccardo rossini dice la chiusura per noi è giusta i dati di adesso obbligano a prudenza e cautela intanto la proposta del consigliere regionale biancani del pd che chiede tamponi di massa negli istituti con il tracciamento si potrà arginare quindi i contagi mentre sulla pagina 4 del carlino di ancora c'è la buona notizia che da il virologo stefano menzo che dice siamo riusciti a bloccare la variante inglese perché era uscita la notizia appunto che nelle Marche era stato individuato questo questa variante quindi oltre a Roma anche le Marche una famiglia di Loreto che c'era come dire la paura che potesse questa famiglia aver contagiato anche altre persone e siccome la variante inglese viaggia ad una velocità molto sostenuta rispetto ai parenti covid 19 che abbiamo conosciuto fino adesso quindi questa maggiore contagiosità aveva preoccupato non poco gli esperti ma il dottor menzo questa mattina ci dice responsabile della virologia del torrette di Ancona l'abbiamo isolata monitorando attentamente tutti i possibili contatti familiari stretti il prossimo weekend prossimo fine settimana dalla pagina 3 del resto del cardino sarà arancione ecco gli spostamenti vietati fino al 15 di gennaio anche in zona gialla non si potrà lasciare la propria regione la bozza del nuovo decreto consentito andare a casa di amici o di parenti insomma l'Italia continua ad essere un'Italia colorata con tutti questi colori con tutte queste disposizioni con tutte queste regole ormai non ci si capisce davvero più niente oggi dovremmo essere rossi credo oggi e domani poi diventeremo gialli poi diventeremo fucsia no lo so vaccini il governo ha sbagliato siringhe ecco e qui bisognerebbe diventare rossi dalla vergogna e la somministrazione è sempre lenta sfruttato appena un quarto della dotazione oggi arriva un nuovo stock da 470 mila flaconi dati molto disomogenei tra i territori dunque il diavolo è nei dettagli a volte anche nelle siringhe insomma la campagna vaccinale scatta il 27 dicembre è scattata con polemiche a tutto campo tra regioni commissario all'emergenza e adesso si arricchisce di nuovi capitoli il nuovo capitolo appunto è questo che abbiamo sbagliato le siringhe ora c'è un articolo che invece vi segnalo a pagina 5 del Corriere Adriatico di questa mattina interessante che riguarda un botta risposta domande risposte sui vaccini sui vaccini si sta discutendo molto se è sicuro e chi lo fa insomma che cosa deve aspettarsi che cosa comporta fare questo vaccino che cos'è questo vaccino Biontech Pfizer e a che cosa serve e qui ci sono tutte le domande e tutte le risposte che troverete sul giornale in adicola questa mattina per esempio le donne in gravidanza possono vaccinarsi oppure le persone che di recente si sono sottoposte al vaccino anti-influenzale possono vaccinarsi la protezione è efficace subito dopo l'iniezione ecco questo la possiamo dare subito questa risposta perché è importante no l'efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose quindi uno fa il vaccino oggi poi ha un richiamo fra qualche settimana ecco da lì a quel momento più una settimana non c'è la copertura quindi può infettarsi o può infettare insomma ci sono tante cose da capire e da sviscerare un po' meglio e questi dubbi che abbiamo noi poveri comuni mortali ce l'hanno anche quelli che nella sanità ci lavorano e hanno deciso di non farsi vaccinare almeno per il momento 50 dipendenti hanno già detto no qui siamo sulla pagina 5 di pesero del carlino di questa mattina ora l'ospedale però tenta la moral suasion cioè in che senso cerca di convincerli in qualche modo cerca di parlare loro sperando che sia soltanto veramente una moral suasion e non qualcosa di più si prevede che i contrari al siero arriveranno ad un 5 per cento del totale il direttore dice molti non vogliono farlo perché hanno avuto già il virus esempio a chi non è immunizzato sarà vietato partecipare alla formazione il segretario regionale dei medici invece chiama in causa l'Ausur l'Ausur per dire voi dateci le dosi noi procediamo così possiamo accelerare i tempi Fabrizio Valeri dice è il modo per entrare in azione appena verrà definito il calendario nelle RSA e residenze protette perché immaginiamo che siamo soltanto all'inizio e è una campagna vaccinale mondiale quindi tutto il mondo tutta la popolazione teoricamente dovrà essere vaccinata sappiamo bene che però non sarà così semplice ci vorranno mesi se non anni nel frattempo bisognerà vedere che cosa farà il virus perché è lui che gestisce un po' la partita e quindi se deciderà di fare come è successo con le altre grandi pandemie che a un certo punto dopo un tot di tempo sparisce oppure lo ritroveremo un po' in tutte le stagioni in che modo non lo sappiamo vedremo Marche Nord vaccinazione a raffi con una puntura ogni 10 minuti il Carlino a muraglia dove si inoculano i sieri a ritmo quasi industriale domenica scorsa 408 fatti il direttore Berselli dice avanti così e dentro febbraio avremo esaurito la lista di circa 2200 dipendenti Marche Nord si riorganizza e trova dei nuovi posti letto pronto soccorso ancora una giornata difficile per gli accessi dei pazienti l'area vasta 1 comincia la vaccinazione anti covid per i sanitari delle USCA ora invece sulla pagina 2 e quindi capite che siamo sulla pagina 2 del quotidiano nazionale quindi il resto del Carlino con tutte le sue pagine che vengono distribuite nelle varie edizioni in Italia e quindi questo per dirvi che Daniele Gidi fanese l'abbiamo già conosciuto ieri è diventato questo 54enne fanese tecnico informatico che ha preso il virus dal 23 dicembre scorso è diventato un caso nazionale lui era un negazionista è uno che diceva il virus in sostanza non esiste tutto quello che si vede in televisione è una farsa ed era convinto e riusciva anche a convincere gli altri purtroppo se l'è preso e adesso invece ha dovuto andare dall'altra parte della barricata ora dice lui sono qui in pneumologia mi stanno curando con nuovi antivirali la dottoressa mi ha tranquillizzato dicendo che la situazione è sotto controllo anche se il quadro clinico rimane serio mi trovo in una stanza adeguata e spero che l'infezione piano piano passi ma lui dice ho capito che le parole su questi temi possono fare sfracelli negare il virus mi rendeva attrattivo verso certe persone ora dice Egidi ho fatto un passo avanti nella mia vita ho ammesso il mio errore il mio stupido complottismo e spero che altri sentano l'esigenza di guardare con occhi veri al dramma del covid-19 e a Egidi gli ha mandato gli auguri attraverso un messaggio anche il virologo Roberto Burrioni con il quale in passato il fanese ha avuto accesi e coloriti scambi di opinioni sia scritti che via social alla vista della opposta barricata ieri gli ha inviato una mail di auguri mentre sulla pagina di Senigallia a proposito di negazionisti revocate le deleghe al vice sindaco Pizzi non si placano le polemiche dopo la frase negazionista il consigliere Rebecchini dice non si possono dire sciocchezze così Montesi replica sui vaccini dunque la giunta Olivetti del sindaco di Senigallia è in crisi il consigliere Rebecchini chiede al sindaco di revocare le deleghe a Riccardo Pizzi a far esplodere la polemica un post che il vice sindaco ha condiviso nel suo profilo Facebook in cui si paragona il coronavirus a un'influenza che colpisce con una bassissima percentuale gli anziani e i malati ora fin qui non sarebbe poi neanche del tutto sbagliato nel senso che non è sbagliato dire che il Covid ha come prima scelta gli anziani, coloro che hanno le patologie pregresse eccetera eccetera non è del tutto sbagliato ma dire che poco più che l'influenza effettivamente questo non è proprio così non è proprio corretto poi che colpisca gli anziani e i malati è un dato di fatto non è dire chissà che cosa andiamo a vedere invece sulla pagina di Fano del resto del canino questa è un'altra notizia della quale vi abbiamo parlato ormai spesso perché sta per iniziare sta per iniziare lo screening di massa anche nella città di Fano servirà per trovare gli asintomatici si parte venerdì quindi questo venerdì saranno allestite 22 postazioni per la popolazione di Fano Mondolfo, Cartoceto, San Costanzo e Monbaroccio ecco le istruzioni ecco che cosa bisogna fare per sottoporsi a questi tamponi rapidi che sono gratuiti lo ricordiamo dall'8 al 13 di gennaio con orario 8.13 e dalle 15 alle 19 non c'è bisogno della prenotazione e la risposta si ha nel giro di 10 minuti per quanto riguarda l'area vasta l'area vasta nostra qui ci sono stati allestiti 4 punti in particolare il primo al Codma di via Campanella quindi siamo nei locali della protezione civile a Rosciano di Fano dove saranno operativi ogni giorno 10 postazioni con 40 operatori poi 4 medici il personale della protezione civile Croce Rossa eccetera eccetera poi alla palestra Venturini sempre a Fano in via in via San Paterniano e al bocciodromo comunale di Marotta in Viale Europa dove saranno tutti dotati di 5 postazioni 20 operatori e 2 medici oltre al personale volontario poi ci sono altre due postazioni operative però solo lunedì 11 e martedì 12 gennaio e sono state previste nel ristorante La Tagliata lungo la Monbaroccese nel comune di Colli al Metauro per favorire gli abitanti di Monbaroccio e Cartoceto e poi e poi vediamo un po' e basta solo queste esatto tutti questi allora gli orari li abbiamo visti torneremo a ripeterli insomma l'invito è sempre lo stesso quello di fare questi tamponi di vaccinarsi perché scusate di vaccinarsi di farmi questi tamponi anche se sono tamponi rapidi perché è importante è importante trovare gli asintomatici quelli che non hanno sintomi ma che sono però positivi del covid e quindi possono infettare anche qui sul Corriere Adriatico il titolo d'apertura indagine di massa sui contagi covid dall'8 gennaio screening nel Fanese i luoghi gli orari per sottoporsi al test che coinvolge Monbaroccio San Costanzo e Mondolfo qui il Corriere Adriatico fa un un riquadro dove ci sono gli orari dove ci sono anche i punti dove appunto si possono andare a fare questi test intanto parte anche la Profilassi è un autista del POTES e quindi delle ambulanze il primo vaccinato di San Costanzo mentre a Fano e a Marotta si apre lo string dei tamponi rapidi fortunatamente procede anche il percorso delle vaccinazioni e il primo è stato Renato Vitali 55 anni San Costanzese è autista soccorritore della POTES di Fano c'è un punto tamponi anche a Fermignano scrive il Carlino allestito grazie alla collaborazione tra Comune Autorità Sanitaria e Protezione Civile e Proloco sotto Fossombrone invece se ne va anche il settimo segretario comunale in cinque anni Paola De Montis si è dimessa perché le è stato proposto un nuovo ruolo professionale post sul Covid il silenzio di Pizzi Olivetti gli revochi le deleghe Rebecchini un vice sindaco non può minimizzare la gravità polemiche sui selfie in zona rossa è morto padre Giulio Pagotto fu parroco a Marzocca aveva dato parere favolevole all'apertura della biblioteca istituita nel 1994 dal comune fu parroco della chiesa di Marzocca dal 93 al 99 padre Giulio aveva 90 anni e ieri sera in tarda serata appunto è venuto a mancare stavo cercando nel frattempo la data del funerale ma a quanto pare ancora non è stata comunicata aumentano i positivi invece a Durbino ma è tutto sotto controllo parla il sindaco Maurizio Gambini che dice i casi nel territorio comunale sono saliti a 124 fino alla fine dell'anno eravamo intorno a quota 80 sull'accesso invece alla ZTL rimane libero solo fino al 10 e poi sempre dal quotidiano il Carlino la pagina di Fano rientro in classe il piano va a farsi benedire Adria Bus e Comune avevano aumentato le fermate anche i controlli tutto vanificato dalla regione che ha chiuso le scuole superiori noi eravamo già pronti a partire accordi stipulati anche con gli out per i bus il preside Giombi avevamo deciso di privilegiare le quinte classi ora attendiamo invece il mese di febbraio sempre sul fronte della scuola campus le fermate dei bus aumentano e vengono spalmate slitta la riapertura ma il piano del trasporto scolastico è già stato definito intanto da Valefoglia le famiglie chiedono più pause all'interno delle classi niente punizioni ma fateli ossigenare mascherine obbligatorie le richieste del comitato salute e diritti a scuola che sono state rivolte ad Acqualoli e a Filisetti la proposta di circolare è stata redatta dalla pediatra Quini Deborah Quini i bimbi dice non sono colpevoli insomma ancora si discute su queste mascherine e quant'altro invece sempre a Ferminiano morta a 100 anni la nonnina del paese Lea Regini è stata fino al 2007 l'anima dello storico forno del marito Luciano Orcioni una donna solare Lea che oltre ad aver dedicato la sua infinita esistenza al lavoro ai figli ha mostrato i valori a intere generazioni che si sono succedute e quindi questo è l'articolo che trovate sul Corriere Adriatico e sempre sul Corriere si parla anche delle truffe che allegate al discorso del Covid-19 si mettono a segno su internet quindi attenzione il lockdown è una trappola dice la dirigente della Polizia Postale delle Marche Cinzia Gruci è una trappola con falsi rimedi anti-Covid la Polizia Postale scopre una truffa online per 50.000 euro 21 persone sono finite nei guai revenge porn e fake news tra le inchieste portate avanti nel corso del 2020 la compagnia aerea invece questa era un'altra notizia che era apparsa per un giorno sul Corriere Adriatico poi non se ne è parlato più ma è una cosa interessante che ritorna oggi sul giornale delle Marche a pagina 7 una compagnia aerea tutta marchigiana tutta made in Marche e si farà tra i big c'è anche Air Nostrum Merloni Guzzini e Filippetti tra sostegno e osservazioni metteranno la quota di 150.000 euro la famiglia d'Avanzale ha assicurato la presenza giovedì è stato fissato l'appuntamento dal notaio dunque ci sarà questa compagnia aerea che volerà chiaramente dalle Marche nei prossimi mesi partirà con due aerei AT72 per Roma e Milano ci sono previste circa 50 assunzioni 300.000 passeggeri l'anno l'obiettivo è quello di arrivare a 10 aerei e insomma è interessante come notizia tra le ipotesi di rotte naturalmente oltre a Roma e Milano ci sono anche Napoli Brindisi Olbia La Mezzia Terme Alghero Corfu Tirana Scoffie e Spalato ottimo l'export invece è la nautica per poter agganciare il treno della ripresa un'altra notizia che troverete sul Corriere Adriatico e sul resto del Carlino è la conferenza di bilancio della CNA e della Camera di Commercio che avvertono bisognerà aspettare almeno 6 mesi e va colmato un gap che al mercato sta costando un balzo indietro di oltre 15 anni poi il vaccino sarà l'antidodo più efficace contro la crisi associazioni imprenditori concordi sui vantaggi per l'economia ragazzini fermati in pieno coprifuoco mamma protesta a Pesore viene denunciata reazione rabbiosa alla multa del figlio controllato l'altra sera dai carabinieri in via Ponchielli un marito geloso e violento esce dal carcere torna l'incubo per ex moglie e figli piccoli l'uomo era stato denunciato la scorsa estate l'unica barriera rimasta è il divieto imposto dal tribunale dei minori poi a Fano gli sforamenti reali sono 36 salvati dai risultati mancanti Benigni analizza i dati avverte al momento lo sbog fa più vittime del covid poi da Fossombrone biker estremi sulle gradinate i briganti dicono noi ci dissociamo e poi una bella notizia anche da terre roveresche portiamo Os e Colf nelle case a 4 euro l'ora il comune attiva un nuovo servizio per andare incontro alle esigenze delle persone sole e anziane via i lavori sulla copertura della chiesa di Sant'Agostino a Mondolfo e poi a Senigallia ci accordo sulla doppia veste del rinnovato ponte 2 giugno il summer giamborì invece è confermato sempre a Senigallia e quindi anche questa è una buona notizia che ci dà speranza è tutto ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie